Bentornati su MyFootballJersey. Ancora? Sì, sono ancora qua. Oggi vedremo insieme la prima maglia del Bayern Monaco per la stagione 22 e 23 nella versione FAN. Il ritorno al rosso brillante è combinato con un look moderno a righe di diverso spessore che insieme ai dettagli bianchi sul colletto e maniche conferiscono alla maglia un tocco classico e sobrio. Il retro della maglia, sul quale assente il motivo a righe, come da tradizione riporta il moto del club Mia San Mia all'altezza della nuca. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-ubilità Aeroready assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questo prodotto contiene il 100% di materiali riciclati ed è sola una delle soluzioni di Alidas per la lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti plastici. Cosa ne pensate? Devo dirvi onestamente che dal vivo è molto più bella che non dal sito. Nella mia personalissima classifica questa prende quattro stelle e fatta molto bene, come al solito con mine jersey non si sbaglia, con le rifiniture giuste. Peraltro è arrivata in un tempo velocissimo, è arrivata in 13 giorni, quasi incredibile. E se pensate che costa soltanto 24 dollari e 99, beh, voglio dire, non dovete fare altro che comprarla. Tra l'altro vi ricordo che in descrizione trovate le istruzioni per poterle acquistare e trovate un link per ottenere un buono da 5 dollari da poter usufruire, da poter utilizzare per acquistare anche questa parte. Quindi è ancora più vantaggioso. Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like e vi prego di iscrivervi al canale per essere aggiornati e avere altre recensioni future. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Buona notte! Buona notte! 5's! Grazie.